Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi la partita giocata pochi giorni fa al nono turno del campionato russo del 2020. I protagonisti sono di nuovo il nostro Dubov, perché ormai sul canale lo abbiamo adottato, contro un altro fortissimo giocatore d'attacco che è Ian Nepomniaci, che oltretutto sta conducendo il torneo. Nel video di ieri abbiamo parlato del potere della fantasia, Oggi per restare in tema di fantasy parleremo di castelli, ma di carte. Partiamo! Daniel Dubov con i pezzi bianchi apre la partita con d4 e Ian Nepomniaci risponde col cavallo in f6. Arriva c4, g6, cavallo in c3 con la spinta al centro d5, siamo nella Grunfeld. Adesso l'immediata variante di cambio, quindi c per d5, il cavallo ricattura e adesso la spinta al centro e4 che arriva con tempo. Cavallo per cavallo in c3 e il pedone b ricattura. Con l'alfiere in g7 si completa il fianchetto, oltretutto con la classica idea della pressione del nero sul centro, in particolar modo sulla casa d4. In questa posizione, che è proprio una posizione classica della Grunfeld, il bianco ha tantissime buone continuazioni. L'idea alla base di tutte queste continuazioni è lo sviluppo, naturalmente, e se possibile anche una nuova protezione della casa d4, che come abbiamo detto sarà sempre un po' sotto attacco del nero. Quindi in questa posizione la linea principale è alfiere in c4 che sviluppa l'alfiere, seguita da cavallo in f3 che sviluppa e protegge pure il pedone in d3. La terza scelta, anche se poi ce ne sono anche altre naturalmente, infatti Dubov giocherà una variante minore, la terza scelta è lo sviluppo dell'alfiere camposcuro in e3, dove questo alfiere aggiunge una nuova protezione alla casa d4. Dubov, come abbiamo detto, giocherà invece una linea secondaria che mantiene però alcune di queste buone caratteristiche. Infatti arriva alfiere in b5 con scacco che sviluppa l'alfiere e lo fa anche con scacco. Attenzione però perché qui arriva c6, quindi chiude, quindi copre il re con l'attacco sull'alfiere che è costretto a tornare indietro. Alfiere in a4, col pedone c che è inchiodato non si può ancora spingere in c5, è mossa classica per continuare ad attaccare il centro, è tutto per poter sviluppare il cavallo in c6 e quindi arriva b5. Alfiere in b3 arriva pure a5, adesso cavallo in f3, arrocco corto per il nero e arrocco corto anche per Dubov. Arriva anche a4, che comunque è una mossa buona, e l'alfiere si sposta in c2. Fermiamoci un attimo perché cosa ha fatto questo alfiere in b5 con scacco giocato da Dubov? Che risultato ha prodotto? Sembra quasi che abbia aiutato l'espansione del nero sull'ato di donna. Beh, non è che sembra quasi, ha proprio aiutato l'espansione del nero sull'ato di donna. Ma non è però una mossa cattiva, perché praticamente vedremo cosa succede. Allora, qui arriva c5, oltretutto quindi il nero continua con le spinte di pedoni, buona anche c5, che attacca il centro. E come mai quindi questo alfiere in b5 che ha prodotto tutta questa espansione non è così malvagia? Non è così malvagia perché la controindicazione, l'unica controindicazione di qualsiasi spinta di pedone, anche quelli al centro, che naturalmente sono fortissimi avanzando, è che praticamente i pedoni avanzando conquistano sì spazio, quindi c'è un vantaggio di spazio, ma dall'altra parte bisogna anche essere in grado di proteggerli, perché sicuramente questi pedoni possono diventare un bersaglio per l'avversario, cosa che Dubov inizia subito a fare. Quindi torre in b1 che attacca, ma in realtà non attacca, guarda il pedone in b5, perché vedete ancora, anche se il nero non lo protegge, non si può catturare perché ci sarebbe l'infilata alfiere in a6, ma Nepomniaci conosce bene questa idea, conosce bene questa idea perché nel 2019 gliel'aveva già giocata Nakamura col bianco, e quindi Nepomniaci, sempre con i pezzi neri, era riuscito a pareggiare in 33 mosse, scusate. Quindi Nepomniaci continua con cavallo in c6, quindi il quarto attacco sul pedone centrale, quindi stessa mossa che aveva utilizzato contro Nakamura, e qui Dubov devia subito da quella partita. Infatti gioca d5 attaccando il cavallo, mentre Nakamura aveva giocato un'altra buona mossa, che era alfiere in e3, anche se sinceramente questa d5 sembra un po' più incisiva. Quindi il cavallo sotto attacco si sposta in e5, vedete che qui iniziano ad esserci alcuni pericoli per il bianco, quindi conviene che sia il bianco a cambiare i cavalli. Cavallo cattura in e5, l'alfiere ricattura, adesso arriva alfiere in h6. Il fiere in h6 attacca la torre, non permetterà a questo alfiere di ritornare in g7, oppure potrà anche permetterlo, ma il bianco gli edo cambia, e questo secondo me è un momento molto importante della partita, perché non c'è niente di male naturalmente a spostare la torre in e8, ma Nepomniaci giocherà immediatamente alfiere in a6. Alfiere in a6 che è anche una delle mosse suggerite dal computer, e quindi praticamente Nepomniaci è ancora in preparazione. Quindi lascia questa torre in presa, e il nero continua con alfiere in a6. Ma che cosa poteva andare storto portando questa torre in e8? Andiamolo a vedere perché a me non mi convince tanto questa alfiere in a6. Ritorniamo indietro di una mossa. Se il nero adesso sposta la torre in e8, cosa può succedere? Il computer ritorna con l'alfiere in e3, quindi abbiamo c5 sotto attacco. Qui in questa posizione secondo me il nero può anche catturare tranquillamente in c3, con posizione che mi sembra sostanzialmente pari, ma Stockfish preferisce donna in a5. Quindi arriva c4, b per c4. Adesso l'unica cosa che può dar fastidio al nero, beh, non tanto l'unica cosa, a dire la verità, perché gli si è anche sciupato il controgioco sul lato di donna. Quindi questa forse, adesso che ci penso, è la cosa che può veramente dar fastidio al nero. L'aver perso questa sola isola pedonale, quindi con i pedoni che non sono più ben connessi, quindi non possono più avanzare in maniera compatta. In questa posizione quindi arriverà sicuramente f4, ma l'alfiere può tornare indietro in g7. Arriva e5, però è anche vero che il nero potrà completare lo sviluppo con l'alfiere in a6, avanzare. E io sinceramente, anche se non ci sono grandi idee offensive per il nero, non mi sembra a me una posizione così terribile da dover sacrificare la qualità. Ma ritorniamo invece a noi, perché dopo alfiere in a6, il nero ha anche sotto suggerimento del computer, quindi Nepomniaci continua con alfiere in a6. Qui praticamente la struttura molto avanzata, questo sì c'è da notarlo sul lato di donna, questo è il controgioco che il nero vuole mantenere a costo della qualità. Quindi alfiere cattura in f8, quindi il bianco vince la qualità, ed è il re naturalmente a ricatturare in f8. F4 arriva comunque, ora però attenzione perché ritornare con l'alfiere in g7 sarebbe un grave errore, perché qui ci vuole un certo controgioco, perché il nero deve avere un compenso, perché ha perso comunque il cambio con la torre, e quindi giustamente Nepomniaci cattura in c3. e l'alfiere ottenuto gli rimane attivo, se no il bianco glielo chiuderebbe dietro il muro di pedoni giocando e5. Quindi arriva torre in f3, che non soltanto attacca l'alfiere che è non protetto, ma sembra anche avere cattive intenzioni sul lato di re, perché si può sicuramente spostare ad attaccare il castello, e quindi arriva donna in a5 a proteggere l'alfiere. Arriva naturalmente anche 5, mossa naturale, il computer in questa posizione dà un piccolo vantaggio al bianco. Come abbiamo detto, il controgioco di Nepomniaci è sicuramente, chiaramente sul lato di donna. In questa posizione c'è una continuazione che mi ricorda una partita che abbiamo già visto insieme, non mi ricordo però quale, dove c'era un alfiere del nero che tagliava come un laser la posizione del bianco. Questa continuazione secondo me è buona, è alfiere in d4 con scacco. Questo mi sembra un alfiere fortissimo, ora naturalmente quando il bianco si è spostato con re in h1 mi sembra un alfiere molto forte che spostandosi oltretutto da una posizione di fronte ai pedoni che comunque li stava un po' ostruendo, controlla alla grande un po' entrambi i lati della scacchiera. Ritorniamo invece alla nostra partita perché dopo e5 Nepomniaci giocherà re in g8, quindi credo a proteggere h7 e anche la casa h8 da una possibile forza invasione della donna sulla diagonale scura. Per Stockfish, pensate bene, questa re in g8 e la successiva mossa di Nepomniaci che sarà un'altra mossa abbastanza naturale, queste due mosse faranno completamente crodare un castello che forse era solo un castello di carte perché non mi sembrano mosse così terribili, almeno a colpo d'occhio. Comunque, re in g8, Dubov sposta il re in h1 per evitare alfiere in d4 con scacco, arriva la seconda mossa abbastanza naturale di Nepomniaci che per il computer è un altro grandissimo errore ed è torre in d8. Torre in d8, quindi centralizza la torre, guarda a distanza la donna bianca con la torre che controlla una colonna dove, se ben preparata, il bianco poteva anche pensare in futuro di spingere in d6 e creare un pedone passato. Ma dopo 21 torre in d8, Dubov gioca e6, quindi direttamente contro l'arrocco. E cosa fare adesso? Se il nero spinge in f5, ricordiamoci che non c'è la cattura in passant, perché per catturare in passant il pedone del bianco non doveva essere in e6 ma in e5, ma non c'è l'ampassant, ma in questa posizione se il nero gioca f5, c'è alfiere cattura in f5 e qui non si può neanche riprendere perché dopo g per f5, arriva torre in g3 con scacco, poi arriva la donna in h5 e qui tutto è perduto, ma anche dopo f6 se ritorniamo indietro, dopo e6, neanche f6 è giocabile, perché di nuovo c'è l'alfiere sul castello e dopo h per g6, arriva torre in g3, la donna stavolta si sposterà in g4 con un altro attacco imparabile. Purtroppo dopo e6 la situazione è già compromessa, Nepomniaci cattura in e6, non si può ricatturare perché vedete che il pedone è inchiodato sulla donna e indovinate che si gioca adesso, non vi faccio il quizzone perché ve lo metto dopo, si gioca la solita mossa, alfiere cattura in g6, h per g6 e siamo finalmente arrivati al nostro quizzone. Qual è in questa posizione la continuazione più forte per il bianco? Mettete pure in pausa e da voi la parola. Ritorniamo a noi, perché stavolta in questa posizione la risposta alla posizione non è torre in g3 che non vince la partita, andiamo a vedere perché. Perché torre in g3, guardate il colore delle frecce, non giocata da Dubov, arriva sì con tempo, ma c'è qualcosa di ancora più veloce, infatti qui può arrivare torre in d6. Torre in d6 è una mossa difensiva non banale, ma che però a tempo lungo ovviamente questi campioni possano sicuramente trovare, che serve a proteggere la sesta traversa. Ritorniamo indietro di una mossa, andiamo a vedere come mai questa torre in d6 è fondamentale in questa difesa, perché adesso se il nero gioca per esempio e cattura in d5, dopo torre cattura in g6 con scacco, arriva alfiere in g7. Dopo che la donna raddoppia l'attacco sulla colonna g, la donna del nero non può portarsi in c3 perché vedete si perde l'alfiere. Quindi ritornando a noi, dopo torre in g3 ci vuole torre in d6, che otetuto tiene anche la torre ben protetta e controlla tutta la sesta traversa. Adesso arriva torre cattura in g6 con scacco, alfiere in g7, donna in g4, qui si minaccia di vincere la partita, ma può arrivare donna in g3 che salva tutto. Quindi ritornando al punto del nostro quizzone, Dubov gioca qualcosa di ancora più veloce, perché continua con donna in c2. Vedete che donna in c2, come la torre minaccia di catturare in g6 con scacco, sta pure minacciando di vincere l'alfiere. Quindi qui naturalmente Nepognachi deve salvare l'alfiere e torna con l'alfiere in g7. Adesso arriva torre in g3, quindi si minaccia di catturare con la torre, con la donna che rimane a proteggere delle case importanti per evitare una futura invasione della donna nera nel campo bianco. E qui arriva g5. G5 è bella idea difensiva, perché adesso non si può catturare, perché se la torre cattura in g5, altra mossa non giocata da Dubov, e qui naturalmente per vincere la partita bisogna raddoppiare i pezzi forti sulla colonna g. Ma con torre cattura in d5, praticamente il nero non gli dà tempo, perché quando arriva donna in g6, il nero cambia le torri. In questa posizione, pur guadagnando un pedone, praticamente il nero può lottare per pattare. Quindi ritorniamo a noi. G5, buona idea. E qui arriva però un'altra bella mossa di Dubov, che non cattura, ma porta la donna in g6. Ora attenzione perché la torre non può catturare in d5, se no arriva il fortissimo scacco da e8, e quindi qui si vince la partita, e quindi arriva donna in d2. Torre cattura in g5, si minaccia il matto in 1, e quindi donna in c3. Ma qui arriva donna cattura in e6 con scacco, il re si deve spostare in f8 per evitare il matto, praticamente, con lo scacco di torre. Quindi un matto che arriva velocemente con lo scacco di torre sulla colonna h, e qui arriva torre in e1. Torre in e1, qui si minaccia un'altra cattura fortissima, e qui, secondo me, alla mossa 29, forse si può anche abbandonare. Ma Nepomniaci cambia la donna sulla torre, quindi la donna di Dubov è costretta a ricatturare, e qui arriva alfiere in f6, che protegge e attacca. Altra bellissima continuazione di Dubov, che continua, scusate, mi sono scordato la freccia, che continua con donna in a4, quindi lasciando praticamente la torre in presa, perché adesso se l'alfiere cattura la torre, lo scacco di donna costringe il re a spostarsi, e quindi il bianco riprende la torre, e ci sono sempre meno pezzi sulla scacchiera, sempre più facile vincere, e quindi Nepomniaci porta la torre in d6. Ma Dubov lascia di nuovo la torre in presa, con donna in h7, altra bellissima mossa, perché praticamente la donna sta controllando la casa di promozione g8, quindi adesso Nepomniaci non cambia l'alfiere sulla torre, perché guardate, dopo alfiere per torre in g5, il pedone f ricattura, e non si può più fermare questo pedone, praticamente il nero è costretto a ridare indietro la torre, e ci ha perso pure l'alfiere per un pedone, e quindi dopo donna in h7, arriva re in e8. Donna in g8 con scacco, di nuovo secondo me si può abbandonare, ma il condannato non vuole confessare, arriva re in d7, e la tortura continua. Donna in a8 a proteggere, a guardare l'alfiere, e a proteggere anche il pedone in d5, e finalmente arriva alfiere per torre in g5. Il pedone f ricattura, e qui arriva c4. C4, attenzione, mossa buona, perché questo è il pedone passato che sta avanzando, di nuovo l'unico controgioco del nero, e qui avanzando questi pedoni sul dato di donna, questa torre praticamente si può spostare in g6, però poi arriveranno h4 e anche h5, che gli prende un tempo, perché questa torre praticamente non può catturare il pedone, se no si perde l'alfiere, quindi è un po' bloccata sulla protezione di questo alfiere. Quindi arriva c4, e qui arriva h4, con l'idea di continuare a spingere h5, per supportare il pedone che deve avanzare per promuovere, e Nepomniaci continua sul dato di donna. B4, donna in a7 con scacco, il re si porta in e8, arriva la forchetta ai donna, che vince il pedone b4. Re in f7, donna cattura in b4, e la torre cattura in d5. Ma adesso arriva donna cattura in a4, alfiere sotto attacco, non si perde naturalmente l'alfiere, ma in questa posizione, Nepomniaci abbandona, mossa 40, abbandona perché andiamo a vedere che succede. Naturalmente, cioè, senza naturalmente, forse, una delle case migliori per questo alfiere è b5, alfiere in b5, dove l'alfiere è protetto, protegge anche il pedone passato, ma purtroppo dopo donna in c2, non ci sono più buone mosse per il nero, vedete, il pedone non può avanzare perché si perde, bisogna stare attenti a tantissimi scacchi che ci sono, e forse lo scacco più pericoloso, che poi accelera anche il pedone, è quello donna in h7 con scacco, cosa fare adesso? Se il re si sposta in e6 per evitare questo scacco, proteggere anche la torre, arriva donna in e4 con scacco, dopo torre in e5, cioè donna in g4 con scacco, vedete addirittura dietro il pedone passato, il re si può spostare in d6, ma qui arriva g6, e naturalmente si vince dalla partita, ritornando a donna in g4 con scacco, si può tentare di portare il re a bloccare questi pedoni, ma anche questa idea non può funzionare, che dopo re in f7 arriva g6 con scacco, il re in g7 si porta di fronte al pedone, ma il bianco con donna in d4 attacca la torre, non protetta, ed è anche un'infilata, perché la sta inchiodando, e quindi re in f6 sembra proteggere la torre, ma in realtà non sta proteggendo niente, perché arriva g7, che è una deviazione micidiale, qui il re è costretto a catturare il pedone, perché sennò promuove, quando il re ha catturato il pedone, il bianco non solo gli vince la torre, ma gli vince entrambi i pezzi, perché questa è anche una forchetta. Quindi un'altra fantastica partita di Dubov, al quale anche Nepomniaci si è dovuto inchinare, con questa sconfitta Nepomniaci perderà la leadership del campionato russo, a favore di Karyakin, che però anche lui verrà bloccato da Dubov all'ultimo turno, proprio la partita che abbiamo visto ieri, e quindi alla fine Nepomniaci vincerà il titolo di Orto Muso. Citazione di Max Allegri. Spero che anche la partita di oggi vi sia piaciuta, se vi è piaciuta non scordate di like al video, e naturalmente non scordate di iscrivervi al canale, Per adesso vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, e ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!